E' ormai un appuntamento tradizionale, quello nei locali di Spazio Semi in via del Pantano ad Arezzo con il concerto di Natale Jazz & Gospel Concert. Quest'anno presentiamo un programma di musica jazz, però sia dei classici del repertorio americano ma anche dei classici italiani, quindi toccherò artisti come Domenico Modugno o Ennio Morricone o anche Carosone per divertirci un po' e poi abbiamo pensato proprio in stile natalizio di fare dei gospel. In questa occasione ho invitato tre persone che sono molto vicine a me, che sono i miei nipoti e tutti quanti fanno musica, fanno teatro, hanno studiato musica e sono dei cantanti, quindi Lucio, Elisa e Giulia Bruschi saranno con me insieme a un quartetto di jazzisti. Grazie. 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 Grazie a tutti.